ragazzi mi viene da dire bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video ma oggi mi gira il cavolo avevo registrato una puntata intera di gameplay di pokemon argento soul silver su pokemon mmo fino ad azalina ma visto che il tizio che gestisce questo canale è rimbecillito non mi sono accorto che mentre stavo facendo un'operazione di cattura che adesso vi faccio vedere fondamentalmente vedete questo fluffy qua io fondamentalmente questo qua l'ho preso all'inizio della puntata da marip qui sul percorso 32 solo che visto che ci stiamo mettendo un casino a catturarlo a una certa ho deciso di stoppare il video fino a quando non l'avessi catturato e poi messo in squadra non chiedermi perché ma sono arrivato a livelli di idiozia così tali da dimenticarmi la registrazione in pausa dopo aver catturato marip qui sul percorso 32 e fondamentalmente mi sono fatto tutta la parte di let's play per fortuna non completa cioè non sono troppe le cose che ho fatto da lì in avanti e quindi ho schippato sia la schiusura dell'uovo di togepi e vabbè ce l'avevo già quindi sti capoli e anche l'evoluzione sia di cicorita in bailiff che di fleff che di marip in fleff è avvenuto entrambe tra la grotta di mezzo e il percorso sotto quindi ho deciso di riregistrare da capo questo video almeno per farvi vedere il tragitto per uscire da sta caverna perché è anche il primo dialogo avuto ad azzalina con con il nostro caro friends che sarebbe il vecchietto che ci crea le sfere poche a partire dalle ghi coche sui giochi di quarta di seconda e i remake di quarta generazione io sono veramente mortificato ragazzi solo io penso potevo avere una svista così gigantesca per quanto riguarda un let's play di questa tipologia soprattutto visto come sono andati gli ultimi video ragazzi quando mi sono ritrovato la prima puntata del let's play oltre alle 300 visualizzazioni ho detto ma che cacchio sta succedendo sono riuscito a registrare una puntata completamente a cazzo di cane e adesso metà della roba neanche ve la posso far vedere perché è stata già tutta schippata è la vita di merda quindi niente sai che poi alla fine in realtà le cose fatte non sono troppe perché è stato soltanto un arrivare fino ad azalina e non è che ci voleva tanto c'era soltanto un fare la grotta di mezzo per il percorso qua sotto e il bello è che neanche ho sfidato tutti i datori qua perché quel bullo là sotto per esempio mi manca poi entrare qui in città vedere il primo dialogo tra uno degli abitanti di azalina e la regola del team rocket che prima fa la guardia qui al pozzo e poi andare a parlare con friends qui alla sua casetta per farlo andare a rompere le balle al team rocket al pozzo slovo ok però mi girano raga mi girano ok che tutti conoscono la trama dei giochi di pokemon soul silver tutti sanno come si svolge pokemon soul silver quindi non è però però me merode francamente merode proprio vabbè raga comunque detto questo bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video su pokemon soul silver online su pokemon me ho video completamente rovinato dalla mia superficialità di merda e appunto con quilava e chicorite e marip già evoluti e anche con wobbafett e togepi ah tra l'altro si volevo prima di riscendere nel pozzo c'ero sceso inizialmente prima però ho sfidato soltanto una reglota perché sono abbastanza difficili da fare volevo mettermi in squadra lui visto che usano anche i pokemon di tipo buio avevo inizialmente pensato di usare per questo let's play soltanto i pokemon che avrei catturato qui nella regio di gioto a parte chicorita che ce l'avevo già da prima ma l'avevo ottenuto all'uno però poi alla fine ho deciso di variare vista la difficoltà proprio perché ragazzi veramente c'è la prima reglutarò non con il generale rocket che c'è stato adesso giù nel pozzo la prima regluta rocket che ho sfidato mi ha messo in difficoltà quindi diciamo che ho lasciato perdere un po' l'idea di fare il let's play come volevo farlo all'inizio adesso tutti diranno andrea ma se non riesci a fare la trama di soul silver su pokemon con i pokemon che trovi lungo la storia vuol dire che sei una pippa non sono io essere una pippa siete voi ad essere skillati non è che se una persona è brava come voi allora deve essere una pippa siete voi che ci avete questa mentalità di merda scusate il mio francesismo allora ragazzi noi adesso dobbiamo buttare giù il team rocket perché questi signori come storia insegna prendono gli slowpoke e gli tagliano le code per poi venderle roba molto 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 simpatica effettivamente allora vediamo un po' c'è sta qui c'è non ce ne sono troppi dai però sti pochi che ci stanno sicuramente sono forti quindi io direi bailiff lo lasciamo fuori per adesso perché si però ecco possiamo mettere le effi qui adesso vi faccio anche sentire le host del team rocket perché ovviamente questo video non le avete ancora sentite ci parla anche del generale milas i generali del team rocket non ce l'avevano nome nella seconda generazione e gans c'ha e gans c'ha allora tra l'altro io dovrei anche cambiare il nickname al mio qui là qua perché cacchio sinda parco giuda breacere ormai è un po' grandicello per chiamarlo in quel modo effettivamente dunque via dalle balle ciao e uno ottimo mi sa che ha salito di livello si quando ho visto che gli erano aumentati i PS massi ho detto mo sale di livello ok zubat prima facciamogli un bracere vediamo quanto leva di attacca oh che bello l'ho scottato che bucio va bene guarda i sistemi fluffy distruggila anzi distruggila dovrei dire tra l'altro mi sono accorto che buona parte del team che ho in squadra adesso è composto da femmine lotta tuono shock via dalle balle molto bene c'è lo stesso bug che affliggeva il mio povero suello che figata molto bene adesso ho due adesso mi manca soltanto pulce schifoso grazie ti voglio bene anch'io gentilissima ma perché cristo cioè ma l'avevo appena visto e te vi oh non ce voglio credere che mi dispiace proprio tanto raga sinceramente io non mi spiego come sono riuscito a fare una cosa così superficiale come scordarmi il video in pausa per 30 minuti di let's play cioè veramente cioè meglio in realtà perché così ho risparmiato tutto il tedioso passaggio di io che sfido gente alla grotta di mezzo cioè alla fine non è chissà cosa di interessante però mi ruote era un rattata ero talmente distratto che manco mi sono accorto pensavo fosse uno slowpok sono proprio vedete questo la dice lunga ragazzi sulla non sul disinteresse perché alla fine non è che significhi essere disinteressati ma vedete la scarsezza di concentrazione che caratterizza i miei video solo io potevo essere capace di confondere un rattata con uno slowpok ok ok fluffy dal 16 in teoria tra 14 livelli dovrebbe diventare Ampharos ciao a ricetta pariva ok ragazzi visto che ho il team che comincia a perdere colpi io direi che metto in pausa sto giro temporaneamente il video e ci vediamo dopo quando sfidiamo Milas perché se no qua la vedo male ragazzi Ariekime sto davanti Milas sapete qual è stata la cosa più bella è che mentre stavo a venire qua mi si è apparato davanti uno Zubat e ovviamente oltre a essere stato l'unico pokemon che non mi ha permesso di fare fuga è stato anche l'unico che ha avuto la bastardaggine di usare ipnosi sul mio cui lava quindi io per non tornare indietro e farmi di nuovo tutta la strada fin qua con la conseguenza di dovermi trovare altri selvatici più figli di puttana di lui ho dovuto sprecare una cura totale che avevo da parte questo la dice lunga su questo sadismo ci possa essere certe volte in un gioco di questa tipologia allora bando alle cianci abbiamo davanti uno dei leader del team rocket una cosa che forse molti di voi non sanno è che nei giochi di seconda generazione i generali del team rocket non avevano distinzioni in base al nome c'era Athena che sarebbe l'unica generale donna che poi appare anche su pokémon rosso pokémon verde foglia che era l'unica distinguibile poi ci sono gli altri tre perché in tutto sono quattro i generali del team rocket sotto Giovanni che sui giochi di seconda gen avevano lo stesso identico aspetto e soltanto da pokémon art gold e sud silver esiste la distinzione il mio preferito non è Milas il mio preferito credo sia Maxus che è probabilmente quello più cazzaro adesso questo per farvi capire quanto questo gioco ha evoluto le versioni su cui è basato perché veramente ragazzi se voi vedete proprio la versione originale non questa di pokémon dove manca comunque anche la regione di canto ma proprio art gold e soul silver come giochi voi vi rendete e poi magari andate su un oro argento anche su un pokémon cristallo che era una sorta di lc dei primi due voi vi rendete conti quante cose sono state aggiustate con art gold e soul silver è una cosa clamorosa vabbè buttiamo giù il tizio qua Milas aumenta l'alciarci e capirei perché vabbè quanto so belle le hoste del team rocket su pokémon art gold e argento sul silver comunque pure sugli originali ma nel remake pure di più secondo me ah zubat come primo pokémon insomma dicevi mettevo porco deno che pizza e avrei messo fleppy si è saputo che avessi messo zù che diamo vediamo un po' astardo c'ha ondur no c'ha grimmer un po' c'ha però sicuro qualche mossa veleno si c'ha qualche mossa veleno pezzente non mi ha velenato ma ero sicuro di si oh ok sono tutti e tre veleno peccato che wabafet a parte specchio velo non conosca mossa psico perché altrimenti mi sarei potuto veramente fare le peggior risate ok uno dovrei essermelo tolto dalle balle ciao ciao no maledizione per un niente non è vero ero molto lontano da buttarlo giù però è fattibile decisamente teffi fai un bel attacco d'unosciocco mi dispiace tanto ragazzi vi ho fatto perdere sia la cattura di marip sì avrei potuto farvi vedere quella no neanche perché alla fine cioè io dopo il cioè voi sapete come mi è successo ragazzi che io praticamente ero sul percorso 32 ho trovato due marip in croce nonostante non mi ha dettato il pokédex sia uno dei pokémon più comuni dopo il praticamente ho trovato questi due marip il primo l'ho fatto fuori e dopo il primo marip fondamentalmente dopo aver buttato giù il primo marip fondamentalmente ho stoppato il video che poi non ho più ripreso fino a quando non sono arrivato a a zalina quindi ecco com'è andata cioè mi dispiace poco tanto ragazzi che lo so che sembra una stupidaggine avete perso soltanto io che catturo marip e faccio a lui che belif e faccio schiudde togepi però merode un po' merode un po' inevitabilmente tuono sciopto cacchia veloce sto pipistrello immondo salve molto bene abbiamo fatto che bello ecco almeno mo' vediamo la seconda parte del dialogo con friends perlomeno team rocket è stato sgominato tre anni fa da un ragazzo di nome rosso oh jesus ed è sfidabile in questo MMORPG io non ce ne voglio pensare vabbè cucciolo la rabbit ball eh peccato che ti fai pagare qua per fare le sfere poche agli altri perché ovviamente l'economia parapappa e tutte le solite manfrine che ci stanno dopo manfrine giuste da un lato però che palle lo stesso che palle lo stesso lo so che teoricamente sarebbe ingiusto perché poi ogni porta che uno ha bisogno di una sfere poche basta che raccoglie i chicocchi e si fa da prensa e non deve più comprare però porca pupazza almeno allora noi in teoria adesso potremmo andare alla palestra di azzalino visto che la mia prima registrazione è andata perduta stiamo appena a 18 minuti io direi che per compensare la mia grossa figura di merda in occasione della prima registrazione andiamo subito visto anche che abbiamo in squadra qui lava soprattutto signori proviamo a buttare giù la palestra di tipo coleottero di azzalino vediamo un po' che cosa succede ecco per esempio come cacchio si faceva qua allora qui si andava per andare dall'allenatore io direi di fare prima tutti gli allenatori no non era qua era dall'altra parte allora se prendo quello di sinistra vado direttamente al al prossimo piano altrimenti vado a sfidare potrei saltare il pigliamosche ma sarebbe troppo facile quindi lo facciamo ciao ok mamma mia ragà merote proprio tanto sto mo perché stiamo in palestra e quindi posso parzialmente fixare quello che ho combinato ma porca miseria cioè bracere ecco per esempio anche fleffi potrei usare in questa palestra perché raffaello usa di sicuro anche cider che è di tipo volante quindi in teoria dovrebbe essere fattibile in teoria molto in teoria stavo a ricontrollare se niente niente non avevo rimesso in pausa la registrazione per sbaglio stavo andando da sbattere addosso allora no non ci voglio credere mi sta cominciando a lagga la connessione non ci voglio credere odio quando mi lagga la connessione ragazzi adesso sapete che cosa vuol dire abitare in un appartamento di due camere con una connessione che se ti va bene raggiunge i 20 mega in download che spasso a me vede fino a che livello dobbetisco nei pokemon fino al 24 in teoria wapafett è salito di livello molto bene allora per questo vidri no sempre abbracere perché non è neanche volante nonostante abbia le ali non è di tipo volante non mi levi un cavolo in quella mossa pure se switch codardo te l'ho sciotto male proprio tra l'altro ci dovrebbe essere anche silver adesso qua quindi potrei anche sfidare lui prima di fare il capopalestra mo vediamo potremmo fare un po' tutto adesso ciao ok esso due perfetto io direi intanto di togliere il condivido di esperienza wapafett tanto penso che a lui non servirà cioè lui non mi servirà in questa palestra visto che tipo con le ottero lo sfonda wapafett tecnicamente quindi faccio livellare un po' fleffi e vediamo un po' avevo voluto sfidare ah ok ci state voi due allora va bene lo stesso va bene lo stesso bene lady by spinarack ok le evoluzioni di entrambe sono molto molto belle a me piacciono molto sia lady che i pokemon con 3 di secondo genere in generale mi piacciono cioè ci sta pure come che si chiama pinco che è anche lui in altro pochino con le ottero fortress l'evoluzione che mi piace molto esteticamente proprio allora un bell'attacco anzi no aspetta che facciamo prima per brecciare su spinarack poi un bell'attacco tono shock sull'edipa perché mi sembra che l'edipa sia volante comunque uno molto bene questa non me l'aspettavo bene era veramente di tipo volante per un attimo ho pensato di ricordare male perché ricordare tutti i tipi dei primi 500 600 non è facile io tuttora faccio degli strafalcioni certe volte con i pokemon delle generazioni che ho giocato a fondo allucinanti cioè per buona parte della mia vita sono stato convinto che scantank fosse cioè non scantank come si chiama che drapion fosse di tipo veleno quando in realtà mi sembra che sia coleottero buio una cosa del genere aspetta adesso torniamo indietro proviamo a fare anche il pigliamoschellà così ce li leviamo tutti gli anitori di questa palestra un paras coleottero erba è ora di pappa qui lava ottimo a casa proprio a casa ciaone levate ok dai ce li siamo levati a questo punto qui ad azalina mi resta soltanto da sfidare sconfiggere raffaello sfidare sconfiggere silver e ottenere la mn dettaglio mi sembra mo facciamo piano piano un po' dunque mamma mia ragammerote non posso neanche provare a resettare il gioco per rifare da capo sto sto pezzo perché ovviamente c'è pokemon soul silver qua è su cloud è su server quindi non posso chiedere non gli posso chiedere se tamme il salvataggio a prima che che catturassi marip perché è improponibile da fare come cosa ma quanto mi roter culo cioè veramente allora avrei anche potuto catturare e riallenare fino al 16 un altro chicorita e un altro marip ma sarebbe stato troppo artificiale per i miei gusti personalmente fare una cosa del genere non è anche troppo lungo perché alla fine c'è allenare due pokemon fino al 16 specialmente se decido di tornare in un'altra regione diversa da Giotto è facile ma mi sembrava troppo finto fa una cosa del genere allora facciamo così ottimo siamo davanti il capopalestra di Azzalina il secondo che facciamo in questo let's play è Mottevoglio fammete a quanti minuti di registrazione sto 28 e comunque nonostante abbia schippato buona parte dell'inizio di questo let's play grazie alla mia rimbambagine comunque avrò dei tagli importanti da fare per non far durare questo video due ore ok ragazzi io direi che adesso si qui lava si no metto qui lava perché si commetto scommetto quello e mi pare come primo non c'è per assider quindi qui lava è il migliore da usa contro di lui no non è vero c'ha butterfree porca miseria non me l'aspettavo mai non me l'aspettavo mai per niente per niente proprio allora bello attacco braciare porco dissano io ho levato niente è un assodore il suo butterfree anche se adesso non sembra ti ha ok l'ho buttato giù ma se non lo scottavo secondo me resisteva anche con pochi ps ok lui sarà ancora peggio probabilmente braciare orco quanto è veloce è veloce e leva è veloce e leva pure è veloce e leva adesso leverà meno perché ho avuto un bucio di cuore clamoroso nello scottarlo pure però lui è pericoloso lui è molto pericoloso guardate ho scottato comunque riuscito a mandammi a 6 ps clamoroso ho vinto ma perché mi ha detto bene soprattutto non perché stavo messo meglio per niente e molte voglio molte voglio pure questo porco il tisse brutto corpo era troppo bello per essere vero che lo scottavo sarebbe stato l'apoteosi del bucio di culo probabilmente una cosa del genere allora parapappa va dire ember fleffi tono shock me l'hai incazzo me l'hai ciao mi ha detto bene raga oggettivamente mi ha detto bene eppure parecchio cioè magari ok non è non meritavo in assoluto di perdere ma non meritavo di vincere 5 a 0 secondo me ricerca va approfondita no la tua ricerca va bene semplicemente ciò avuto un bucio di culo grosso da qua fino a durmstrang che porco cane vabbè ottimo adesso posso avere i pokemon che bebediscono fino al 29 ah proprio come nel game hanno cominciato a mettere il level cap uguale alle medaglie ottimo 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 mi fa piacere questa cosa che hanno fatto ragazzi ho stoppato il video per risparmiarvi il mio dover riuscire dalla palestra mi sono anche andato a curare adesso direi che per chiudere il video in bellezza vado al varco all'ingresso del bosco di lecce e butto giù argento perché in teoria dovremmo sfidarlo qua lui forse potrebbe pocebbe non dico sicuro ma pocebbe inizia a con todo quello che è quindi io metto nel dubbio fluffy per primo per prima stavo dicendo prima ragazzi metà del mio team pokemon attualmente è composto da pokemon femmina nello specifico fluffy bay leaf e anche wobbuffet e questa cosa anche se sembra una stupidaggine mi fa molto piacere in virtù del capopalestra che dovremmo sfidare dopo nella prossima città credetemi ragazzi avere pokemon femmina contro il terzo capopalestra di gioto può essere decisivo alla lunga allora ciao oh inizia con zubat ancora meglio molto bene porca miseria veloce mi ha poisonato il bastardo no non muore però è paralizzato quindi lo butto giù e uno e uno è tolto dalle balle molto bene mamma mia ma sono tutte delle schegge qua guardate porco disse mi ha buttato giù fluffy però adesso è stunnato quindi posso provare a ammazzarglielo con bay leaf allora bay leaf vedete non fallimmo foglie lama adesso perché se no stiamo nella allora c'è la madre puttana c'ha gastli merda c'ha gastli bastardo ma manco avevo ordinato il primo foglie lama e già deve scontato che ma c'è proprio la madre mignota che cazzo cazzo che me levi specchio velo dai fammela un branotone o te si stiamo io tiè oh ho sciuttato godo come dici mamma mia uno specchio velo uno specchio velo per 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 fermarli tutti vabbè basta andiamo a farne un altro no era stunnato carchio dovevo switchare dovevo switchare male riproviamo no ci ha morso bastardo non me l'aspettavo facciamo bay leaf va dai vi un cacchio foglie lama beccate questa casa non more non glielevo un cazzo c'è me è da piangere c'è una difesa allucinante o forse è la mia povera bay leaf ad avere un attacco fisico terribile ho grittato perché foglie lama c'ha un'alta possibilità di grittare ma accidenti santo devo livellare un po' bay leaf mi sa è sempre colpa dei pokemon deboli silver sicuro ok ragazzi io direi che adesso possiamo curarci il team innanzitutto e poi magari il prossimo video lo dedichiamo a prendere la mn di taglio arriva fino a fiordoropoli perché in teoria cioè adesso noi prima di fiordoropoli dobbiamo soltanto prendere la mn di taglio attraversare il bosco di lecce attraversare il percorso della pensione che c'è sopra quindi in teoria è fattibile da fare tutto in un video vabbè raga sto video un po' registrato così a cazzo di cane finisce qua spero che nonostante le varie problematiche vi sia piaciuto fatemi sapere cercherò di fare in modo che non si ripeta più una cosa del genere ragazzi perché a me schifalite di portare avanti un'intera serie su youtube in questo modo non mi è mai successa una cosa del genere da quando sto su youtube io ho due serie ho portato qua su youtube una che poi ho interrotto di pokemon proprio oro art gold durante la seconda ondata un'altra di diamante lucente che ho completato mai mi è successa una cosa del genere quindi mi ruote particolarmente sta cosa proprio adesso che ci sta sul silver su pokemon io ci tenevo particolarmente a portare sta serie su youtube italia e devono succedere queste figure di merda vabbè niente raga sono mortificato e spero che le prossime puntate vadano meglio